Catturate gli obiettivi. Stiamo prendendo Charlie. Scudo blindato. C sotto controllo. Il nemico ha preso il nuovo! Abbiamo preso il comando. Scudo blindato. Scudo blindato. Scudo blindato. Stiamo prendendo Charlie. Vi ha preso il controllo. Stiamo perdendo Charlie. Ah, sotto controllo. Il nostro UAV è online. Stiamo perdendo! Stiamo perdendo B. Abbiamo perso il comando. Specialista ottenuto. Stiamo perdendo C. Ci stanno schiacciando, conquistate gli obiettivi! Stiamo perdendo A. Sotto controllo. Il nostro UAV è online. Stiamo perdendo C. Stiamo perdendo B. 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 Stiamo prendendo Charlie. Gli obiettivi conquistati è restata in posizione. Abbiamo perso! Il nostro UAV è online. Stiamo perdendo B! Abbiamo perso B! Abbiamo perso! Ho avvi il nemico individuato! Pesca esplosiva in arrivo. Stiamo prendendo Alpha. Abbiamo perso il comando! Abbiamo perso le bombe in attesa del segnale! Stiamo perdendo C! Abbiamo perso! Abbiamo perso il comando! Adres di tutte le bombe areate in arrivo! I nemici disturbano il nostro radar! Ci stanno schiacciando conquistati gli obiettivi! Come l'enemico in arrivo! A sotto controllo! Scudo blindato! Stiamo perdendo Alpha! Stiamo perdendo Alpha! Scudo blindato! Stiamo perdendo! Stiamo perdendo! Stiamo perdendo! Scacallo. San nemico rilevato. Vittoria, sono di favoro, compagni.